Musica Domenica 22 settembre, buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Il tenente Luca Palladino è il nuovo comandante dei Carabinieri di Boiano. È stato presentato alla stampa dal comandante provinciale, il colonnello Luigi Di Santo, anche lui da poche molise. Palladino ha già una lunga esperienza ed è pronto ad affrontare il nuovo incarico contando anche sulla collaborazione dell'agente. Tonino Danese. Il tenente Luca Palladino ha 46 anni e di Cassino e già ha una lunga esperienza nell'arma, soprattutto in campo investigativo contro la criminalità organizzata impegnato in Campania e Calabria. Il suo ultimo incarico alla guida del nucleo operativo e radiomobile di Soverato. Nel suo curriculum anche missioni in Afghanistan, Kosovo e Cisgiordania. È in procinto di diventare capitano ed è il nuovo comandante dei Carabinieri di Boiano. Qualche giorno ho assunto il comando della compagnia Carabinieri di Boiano, in sostituzione appunto del capitano Edgar Pica, a cui va il mio grande in bocca al lupo, che è andato a comandare la compagnia di Nola. È un grosso impegno e mi rendo conto di essere arrivato in un territorio particolarmente steso che richiederà uno sforzo maggiore per poter garantire la nostra quotidiana vicinanza alla popolazione e per poter sopperire quelle che potrebbero essere le esigenze e le criticità che si dovessero rappresentare in qualsiasi momento. Dunque l'esperienza del comandante Palladino a servizio di un territorio ampio dove l'attenzione è alta sul fronte spaccio di droga e infiltrazioni della mala campana. L'attenzione e la sensibilità a questa rilevante e importante problematica sicuramente rimarrà particolarmente elevata e garantiremo ancora la continuità e non scenderà il livello di attenzione appunto su questo fenomeno criminale a cui sicuramente dedicheremo uno dei maggiori sforzi da parte di tutta la nostra istituzione. Il tenente Luca Palladino conta molto sulla professionalità dei suoi uomini ma reputa fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. Consideri che io ho 11 comandi di stazione che sono le dipendenze che collaborano con la compagnia di Boiano e la vicinanza è uno dei nostri punti forti proprio perché siamo presenti e rappresentiamo forse l'unico presidio di legalità in determinati territori. Quindi cercheremo di essere ancora più vicini alla popolazione per poter captare, come diceva il signor Colonello Pocanzi, quelle che potrebbero essere le esigenze della popolazione ancora prima che le stesse ci vengano rappresentate. E cambiamo argomento, si è tenuto a campo basso il convegno Rino Sinusiti Acute tramite in realtà un incontro organizzato dall'Ordine dei Medici per fare chiarezza sui sintomi e le cure della malattia. Francesca Massimano. Spesso chiamiamo Rino Sinusite un brutto raffreddore accompagnato da mal di testa e secrezioni. In realtà è importante fare chiarezza sui sintomi così da poter curare la malattia in modo efficace evitando di assumere farmaci sbagliati. Ed è stato proprio questo uno dei principali obiettivi del convegno che si è tenuto all'auditorium Arturo Giovannitti di Campobasso. L'evento organizzato dall'Ordine dei Medici è stato coordinato da Giulietta Terranova, dirigente medico di Otorino Laringoiatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso con la partecipazione di professionisti del territorio e di esperti provenienti da fuori regione. Noi abbiamo fatto questo incontro dedicato ai pediatri, ai medici di base e a tutti gli specialisti che volessero approcciarsi a questo tipo di problematica proprio per sfatare alcune credenze radicate e invece dare le indicazioni più precise per una più corretta condotta sia diagnostica che terapeutica. All'incontro era presente anche Attilio Varricchio docente unimo, l'esperto in malattie testa-collo che ha spiegato quali sono i segnali a cui prestare attenzione e a chi rivolgersi in caso di sintomi persistenti. I sintomi della rinocidosite sono quelli di un raffreddore che persiste per più di 10 giorni quindi oltre alla rinorrea, il muco dal naso abbiamo la tosse la rinorrea a volte ha anche un cattivo odore quindi è malodorante e si hanno delle forme di dolore facciale. Professore, in presenza di questi sintomi che cosa è opportuno fare? A che bisogna rivolgersi? Chiaramente bisogna rivolgersi in primo achitto al medico del territorio il pediatra dei bambini il medico di famiglia per gli adolescenti e adulti laddove la sintomatologia dovesse persistere è necessario rivolgersi all'otorinonaringoiatra per eseguire l'indagine più precisa e più caratteristica delle rinocidosite che è la rinofibroendoscopia. Lasciamo l'informazione e andiamo alla rassegna stampa dei quotidiani di oggi. Iniziamo da primo piano Molise acqua, allarme rientrato ma è sempre emergenza in furia la polemica per il venerdì nero di Campobasso quasi una giornata senza flusso idrico caos e disagi per famiglie attività commerciali ingenti i danni colpo con l'esplosivo svuotato il bancomat MPS di Porto Cannone la deflagrazione ha sventrato l'immobile messo a disposizione della banca dal municipio ancora non quantificato il bottino Pizzone II viola le norme del parco i comitati rilanciano la battaglia a rischio l'orso marsicano e numerose specie protette vediamo lo sport Campobasso braglia la squadra in crescita ma bisogna fare gol serie D Lisernia riceve ad Agnone il Senigalli a Termoli a Fossombrone eccellenza Ripalimosani super alto casertano KO Tris infilato dal vasto Girardi andiamo alla stampa nazionale il Corriere della Sera Polizza Casa scontro sull'obbligo clima lega contraria Tagliani sia facoltativa ma per le aziende scatta no al rinvio la Repubblica lavoro la fuga dei giovani impieghi sottopagati contratti precari abuso di tirocini per gli under 30 l'occupazione stabile resta un miraggio negli ultimi due anni in 100.000 hanno scelto di lasciare l'Italia i numeri che il governo non vuole vedere Polizze calamità lite nella maggioranza sull'obbligo Salvini contrario la stampa Maxi Conduno per sei anni arriva lo stop del tesoro calamità lite nel governo sulle polizze obbligatorie Salvini non tassiamo la casa il messaggero Tagliani no a nove tasse l'intervista al ministro degli esteri basta imposte altra cosa è concordare con le banche un aiuto con Marina tutto a posto non sono lo strumento di nessuno le elezioni americane siamo neutrali poi boccia finta gravidanza per minacciare San Giuliano indagata anche per lesioni sequestrati cellulare e occhiali spia il fatto quotidiano così Zelensky ci porta in guerra con la Russia missili gaiani per usarli gli servono militari nato in Ucraina razzi per la pace l'Ucraino batte cassa negli Stati Uniti sugli attacks e sui droni Kiev entra nell'addestramento nato ma Biden Harris temono guai in Libano avvenire a Sisi Parigi New York la pace che non si arrende ieri la marcia in Umbria oggi il meeting francese di Sant'Egidio da domani gli incontri ono la guerra non ha ancora vinto libero la sinistra marcia il sabato gazzista il campo largo sfila da Sisi per chiedere all'Occidente di arrendersi e dopo le ferie in tutte le città tornano le parate dei fan di Hamas la Schlein andrà in piazza con la CGL contro il decreto sicurezza il secolo d'Italia un tesoro da 70 miliardi il Made in Italy protagonista del G7 agricoltura il sole 24 ore poste così sarà la privatizzazione poi cambiano le carriere nella pubblica amministrazione dirigenti anche senza concorso e siamo alla gazzetta sportiva Darby Verità Inzaghi insegue la settima stracittadina di fila per restare in alto Fonseca si gioca tutto con le due punte Morata Abram poi l'ex Nerazzurro Adriano la Tula non si ferma l'ex Rosso Nero Albertini Leao fai tu la differenza e con il nostro appuntamento con l'informazione la rassegna stampa è tutto l'informazione di Telemolisse torna alle 14 grazie per l'attenzione buona giornata buona domenica grazie per l'attenzione